E' stato convocato per mercoledì 3 maggio un consiglio di quartiere di Villa San Martino che ha per ordine del giorno il progetto di parcheggio di via Togliatti. Non c'è infatti nessuna comunicazione ufficiale, ma vi sono più comunicazioni ufficiose che indicano come l'amministrazione comunale stia valutando la possibilità di ampliare l'area di sosta su via Togliatti all'ampio spazio verde nel perimetro della scuola Don Bosco. Un'esigenza derivata dalla crescita che sta avendo quella porzione di quartiere con la nascente cittadella del basket affiancata all'impianto natatorio Facchini, al campo da calcio di Villa San Martino e recentemente inaugurato Parco Avventura. Un ampliamento e una crescita di appeal che rischia di pagare pegno con il verde urbano che da mezzo secolo è parte integrante dell'istituto scolastico. Un'ipotesi che vede già la netta contrarietà di buona parte del quartiere compresa la storica consigliera Lucia Pighin. Noi non ci aspettavamo assolutamente adesso di questa novità che abbiamo saputo tramite Facebook che vogliono costruire un parcheggio al posto di questo prato, una porzione, una parte, non lo so tutto il parcheggio, comunque no. Io non parlo a nome del consiglio di quartiere essendo, nonostante io sia una consigliera di quartiere, io parlo a nome del mio quartiere, io parlo a nome di tutte le persone che portano i figli a scuola qui e di tutte le persone che abitano qui e che godono di questo verde e di quello che questo verde produce perché se noi ci facciamo un parcheggio sopra poi i sensibili, le persone sensibili forse sapranno che un verde, un prato o degli alberi o un bosco abbassano la temperatura. Noi stiamo continuando, l'amministrazione anzi sta continuando a costruire, cementificare, fare parcheggi e questo significa anche un problema per il nostro clima, questo è un argomento di cui sembra che loro non si interessino e io sono basita da quello che ho sentito. Nulla è in contrario contro la cittadella del basket, anzi noi siamo orgogliosi che si faccia nel nostro quartiere, il problema è che il parcheggio non va bene in questo prato, il parcheggio non si fa su un prato, si devono trovare altre soluzioni. Non ci sono comunicazioni ufficiali ma l'attendibilità di questa possibilità va oltre il chiacchiericcio social al punto da dedicarvi un consiglio di quartiere. Parliamo di più di una chiacchiera social, ho citato i social solamente perché speravo come consigliera di quartiere di saperlo prima di un social.